Ecco, approfitto anche per presentare il quinto album degli Aria, Maledetti, che ha un po' dato la rinascita artistica a questo grande gruppo italiano degli anni 70. In mezzo, diciamo, questo sarebbe l'arbum di studio, il numero uno, due, tre, il quarto, ma il quinto perché c'è a reazione che fa da live uscita a cavallo tra crack e questo. Quella è una reazione interessante perché facciano vedere loro come facciano anche gli happening dal vivo e come suonassero molto bene anche dal vivo ai vari festival del proletariato. Allora, l'ho già parlato, accennato del primo disco, Arbate McFrey, tra i più importanti del 73, Ariato Internazionale, quello del 74, Cation Radation Area, ancora più sperimentale, ancora più ostico, meraviglioso anche quello, disco da avere assolutamente. Poi ci fu uno un po' più di, non voglio dire compromesso, ma di transizione, che era crack, leggermente più pop, leggermente che si concedeva qualche ballata proletaria, per così dire. Ci fu qualche protesta dagli autoriduttori più incazzati perché per una roba più impegnata, a questo capitava. Però dopo li accontentarono un po' tutti con questo Maledetti, Mauditz, del 76, che è praticamente l'ultimo album loro in studio per la Cramps. Poi ne fecero un altro che era un happening, Event 76, ma quello si può considerare proprio solo un esperimento. Mentre in questo disco qui c'è tutta la formazione classica, più tutti i vari musicisti provenienti dal giro inglese della Company di Derek Bailey, che suonarono qua dentro da Paul Litton a tutti gli altri della Company, della Free Music inglese. Quindi anche certe cose finire anche a Fred Fritz. Ecco, ovviamente io giro per vedere la tracklist che non mi ricordo mai i pezzi. Questo qui tiene bene tutto quanto, anche l'artwork è una stampina giapponese. Allora, andiamo subito con la prima parte, l'evaporazione, e quella inizia solamente con un suono fatto dentro una sorta di un buto a bocca. Poi, di forismo urbano, un pezzo quasi funk, un po' la parliament, però chiaramente con Demedio Stratos. La gerontocrazia unisce il loro tipico jazz rock a qualcosa di free, da un testo abbastanza emblematico. Poi c'è un grandissimo skum di 6.33 e qui veramente Steve Leasy, mi sembra il sax. E qui siamo un altru jazz puro, un altru jazz quello proprio di marca, non dico Anthony Braxton, però insomma della ACM di Chicago. Quindi insomma, roba buona. Poi c'è un termezzo di Bach, il massacro di Bandelburgo numero 3, in cui praticamente un po' sfruttano Bach. Perché, diciamo loro, essendo anticlassisti, quello non può distruggere la musica di conservatorio. Quindi è un pezzetto, un estratto di un concerto brand di borghese, ma vabbè, insomma, presa ironicamente in sol maggiore, giro giro tondo, con un atto dei loro classici. E poi c'è soprattutto Chaos parte seconda, che si vale allacciare al loro stilema più avanguardistico del primo e del secondo album. E qui però è meno elettronico e molto più sul free jazz etnico, sia di libera improvvisazione, che anche di jazz etnico di Don Cherry, che lui faceva con le sue Relativity Suite. Ecco, e questo rimane uno degli ultimi loro capolavori e dischi più importanti che abbiano mai prodotto. Dopo di ciò, ripeto, c'è Event 76, che però è per completisti. Poi fecero un disco per l'etichetta di Caterina Caselli, la Scott CGD, gli dei se ne vanno, gli arrabbiati restano, che però è superfluo. Poi due dischi di Fusion, veramente dimenticabili. Dopodiché invece, no, ci stanno delle opere soliste di Patrizio Fariselli, come Antropofragia o Indicazioni di Vaudofani, che sono i primi loro LP per la Cramps del 77, che hanno una loro importanza anche artistica. La grafica giapponese è fatta molto bene, e anche da mastering.